Una superficie destinata all'agricoltura ma trasformata in deposito di materiali, anche inquinanti. La Polizia Ambientale del Comune di Napoli ha sequestrato questa mattina a Pianura un'area di 5.000 metri quadri, individuata a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini. E' stata trasformata con una pavimentazione su tutta la superficie ed è stata destinata ad un uso artigianale di officina, di meccanica, di mezzi di grossa portata, quindi camion, rimorchi, gli scarti di queste demolizioni che fanno, riparazioni e quindi residui dell'attività, oli, batterie, copertoni e quant'altro proveniente dalla demolizione di un veicolo depositati sul suolo nudo e quindi assorbito dal sottosuolo. Quando ci sono attività di smaltimento illecito, come quelle che sono state oggi evidenziate, è evidente che oltre al danno di immagine, di qualità e di decoro urbano, c'è anche un problema legato all'inquinamento delle falde, perché non tutto avviene secondo i crismi, non tutto avviene rispettando quello che prevede la norma. Quando vedono l'azione incisiva della nostra polizia ambientale, della polizia municipale o delle altre forze dell'ordine, i cittadini sono incoraggiati ed è questo lo spirito con cui noi ci muoviamo in queste azioni. Per denunciare abusi ambientali, i cittadini possono rivolgersi al numero 081 795 8984.